Dopo il successo dello scorso anno, torna Noci nel Barese Gustosamente Natale, iniziativa in programma da venerdì 20 a domenica 22 dicembre tra le vie del Centro Storico e nella centrale piazza Garibaldi. Shopping, tradizione, degustazioni. La manifestazione offre un percorso tra le tipicità locali e le gustose eccellenze gastronomiche legate anche alle festività natalizie, come le pettole, le cartellate e il cioccolato. L'iniziativa, promossa dalla Confartigianato di Noci e patrocinata dal Comune di Noci, è realizzata in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommeli e Puglia, alla quale è affidata la selezione dei vini proposti in abbinamento al food di qualità. Il tutto accompagnato da momenti di musica, cabaret e giochi che caratterizzano la tre giorni, pensata anche per i più piccoli, con tante attrattive come la calata di Babbo Natale e gli spettacoli di Burattini. A completare l'offerta dell'iniziativa, supportata anche dalle associazioni Puglia Trek & Food e Il Talento Nasce al Sud, uno spettacolo di falconeria, presepi, mostra e mercatini dell'artigianato.